Il Signore benedica queste opere, chi le ha realizzate, benedica tutta questa comunità, si mantenga nel suo amore e nell'amistizia tra di noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Dai al nastro! Bravo! Un ricordo legato non soltanto alla realizzazione di questo edificio, ma anche alle tante attività in cui si impegnò per la promozione umana, sociale ed economica del nostro territorio. E proprio in queste circostanze sono lieto di annunciare che l'amministrazione comunale ha proposto di intitolare alla memoria dell'architetto Franco Baglia il salone polifunzionale in cui ci troviamo. Purtroppo la trafila burocratica necessaria per intitolare un bene comunale è molto lunga e prevede che si ottenga il parere favorevole di una specifica commissione della prefettura. Pertanto, posto che l'Inter è stato appena avviato, dovremo aspettare ancora qualche mese per poter avere in ufficialità dell'intitolazione. Tuttavia, a cinque anni dalla scomparsa dell'architetto, ci ha fatto piacere cogliere questa occasione per ricordarlo tutti insieme.